Premio internazionale Flaiano 42esima edizione, ufficializzati i nomi dei vincitori che domenica riceveranno l'importante riconoscimento. Un premio speciale quest'anno verrà destinato a un giornalista originario di Avezzano, che oggi è uno degli esponenti politici più noti. A lui il premio per la promozione culturale in Italia e nel suo Abruzzo. Si parla di Gianni Letta, lui per l'impegno che ha avuto per la cultura in Abruzzo e per il lavoro che ha fatto come giornalista riceveranno dei premi Flaiano di quest'anno. Nonostante le difficoltà che tutti conosciamo, anche quest'anno siamo riusciti, grazie alla fondazione Tiboni, siamo riusciti di nuovo ad offrire alla città il 42esimo premio Flaiano. Vincitori del premio Flaiano quest'anno saranno per la sezione letteraria Giorgio Patrizzi per il saggio Gadda, Ole Maier per la cultura italiana nel mondo, per la sezione teatrale Anna Mazzamauro per la carriera Marina Massironi come interprete della stagione, Lino Guanciale come attore rivelazione dello spettacolo italiano, Alessandro Frola come interprete nel musical Billy Elliot, per la sezione televisiva il premio andrà a Luca Barbareschi per la produzione e l'interpretazione maschile di Pietro Mennea e a Lunetta Savino per l'interpretazione femminile di Pietro Mennea, Tommaso Cerno per il programma di Dei giorni decisivi di Rai 3, la scelta di Katia per il documentario di Rai 3 e per la sezione radiofonica il premio sarà consegnato a Enrico Ruggeri per il programma radio Il Falco e il Gabbiano.